Buonasera, mister Cagnete. Fino ad ora abbiamo parlato della sua famiglia, io invece le parlerò della mia. Perché vede io, tanto io quanto la mia famiglia e quanto tutto il mio popolo, viviamo in un'area dove si usa la tecnica del fracking per l'estrazione del petrolio da oltre 20 anni. Quindi le posso dire con un certo grado di fondamento che in quell'area registriamo il più alto tasso di disoccupazione giovanile e disoccupazione in genere d'Europa, la distruzione totale di tutte le produzioni agricole e locali, l'annullamento di tutte le attività turistiche già esistenti, l'inquinamento delle falde acquifere, degli invasi di approvvigionamento delle acque, dei bacini idrici di ricarica e infine, ma non per ultimo, i più alti tassi di incidenze di patologie tumorali correlate alle esposizioni da idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti. Quindi, alla luce di quanto detto, lei si impegna con tutte le sue forze contro questa pratica devastante per la salute dei cittadini europei, devastante per le economie locali e devastante per l'ambiente? Grazie. Onorevole, come lei sa certamente, il trattato riconosce a ciascuno Stato il diritto esclusivo di scegliersi le fonti energetiche e il loro utilizzo che preferisce, è una competenza nazionale. L'Unione Europea, e ciò che ha fatto la Commissione Europea, ha messo a punto una raccomandazione per far sì che se uno Stato prende la decisione, deve procedere all'estrazione nelle massime garanzie ambientali. Fino ad ora la Commissione ha quindi emanato una semplice raccomandazione. Però, per giunta, è stata avviata una rete, un network scientifico con il compito di analizzare tutte le esperienze di estrazione di shale gas nell'Unione Europea, di valiare i vari progetti nei vari Stati membri, per verificare quali siano le migliori prassi e che impatto abbiano. In funzione dell'esperienza che si otterrà da questa analisi, io potrei proporre alla Commissione la messa a punto di norme, di una normativa per disciplinare l'estrazione di shale gas, dei gas di scisto, per il massimo rispetto delle garanzie ambientali, anche in collaborazione con il Commissario responsabile per l'ambiente. Quindi, le posso dire che stiamo analizzando tutte le migliori prassi a scala mondiale, quale sia l'impatto sull'ecosistema, sulle falde acquifere, quali siano le conseguenze socio-economiche e in funzione dell'esito di queste analisi potrà essere opportuno avviare una legislazione a questo punto vincolante a disciplina della materia. Materia non facile perché le competenze nazionali sono chiaramente definite, però anche sono chiare le competenze dell'Unione Europea in difesa dell'ambiente e della salute.